Ciao a tutti, in tante mi avete chiesto di parlare di questa fragranza che è ormai una fragranza vintage, considerata vintage. È una fragranza nata nel 1993 ed è, il marchio è Revlon, lo sapete. È una fragranza che è cambiata nel tempo perché prima era molto molto più intensa di adesso, adesso risulta un po' più leggera e questo è veramente veramente un peccato. Quali sono gli accordi fondamentali di questa fragranza Charlie Red? Ha tutta una piramide olfattiva molto molto importante perché all'interno troviamo un po' tutti i sentori che piacciono a me, quindi troviamo la tuberosa, il lang y lang, il ribes nero, la violetta, il muschio animale sulla base, il sandalo. È un profumo fiorito ma nello stesso tempo comunque orientale. Alla base troviamo i legni, quindi è molto strutturato come profumo e nello stesso tempo pur avendo tutti questi sentori molto importanti, in realtà risulta essere cremoso, molto molto delicato sulla pelle e femminile. Femminile all'ennesima potenza, io lo sto adorando, infatti lo sto veramente ultimamente in queste giornate lo sto consumando, mi piace tantissimo perché come avevo detto in un vecchio video, sa proprio di leocrema, sa di crema, quindi sa di crema anche che si mette al mare, crema abbronzante. Quindi io sinceramente lo sto adorando in questo periodo, lo continuo ad odorare e lo indosso, quindi sono felice. Molte mi avete scritto che purtroppo ha perso quella persistenza che aveva un tempo ed è purtroppo la verità, come tanti profumi che vengono riformulati dopo tanti anni, perdono la loro originalità, però nello stesso tempo per il prezzo che ha, io fossi in voi in collezione lo terrei perché è veramente veramente valido e vi piacerà sicuramente. Fatemi sapere se anche voi avete in collezione il Charlie Red oppure se avete gli altri, il blu e il bianco ad esempio, c'è anche il gold. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo profumo.